Il nuovo sistema di gestione adottato è la soluzione più utile nell'ottica del miglioramento dei servizi legati all'ambiente. Siamo pronti alla sfida, lo ha affermato l'assessore a ramo del Comune di Castellabate, Domenico Di Luccia, intervenuto alla conferenza stampa organizzata dall'amministrazione comunale, in sinergia con Sarim, la società incaricata, per annunciare tutte le novità presenti nel nuovo piano. Noi oltre ad essere un comune dove, come abbiamo detto in conferenza stampa, dove la raccolta differenziata con questa presentazione di stamattina va solamente nella direzione del miglioramento, quindi ci siamo imposti noi come amministrazione, i cittadini come obiettivo finale, quello di raggiungere entro il 31-12-2019 l'80% di raccolta differenziata, che è un traguardo ambizioso al massimo. Dicevi bene, abbiamo inaugurato qualche anno fa una delle strutture più belle in termini ambientali, che è appunto il centro di raccolta, da fare invidia anche a altri comuni che ne sono sprovvisti. Un centro di raccolta funzionale, non solo dal punto di vista logistico, ma anche del decoro, è un vero e proprio giardino. La prima cosa che abbiamo pensato di inserire all'interno di questo centro di raccolta è un sistema di premialità, e sono ben 100 i cittadini che hanno aderito, hanno partecipato, hanno accolto l'invito dell'amministrazione che è appunto di partecipare attraverso una scondistica in bolletta e materialmente nella emissione della prima bolletta ben 100 cittadini hanno avuto questo risparmio in bolletta abbastanza cospicuo. Basta ricordare che fino a 100.000 ecopunti si risparmia in bolletta ben 250 euro. Quindi lascio immaginare il risparmio che può essere sommato poi a quell'altra modalità di risparmio che è appunto aderire al compostaggio domestico. Che cos'è il compostaggio domestico? Bisogna acquistare una compostiera domestica, collocarla in un giardino e automaticamente si ha la possibilità di avere un ulteriore scondo del 20% che può essere sommato poi alla questione premialità sul centro di raccolta e quindi teoricamente basta che il cittadino sia virtuoso, non sia distratto verso l'ambiente, sensibile ulteriormente verso l'ambiente per avere una bolletta dell'Atari pari a zero.